Ciao a tutti, io sono Iola, oggi è giovedì e stasera, come ben sapete, abbiamo appuntamento per il corso prematrimoniale. Scherzo, non ce l'abbiamo noi, ma ce l'hanno Chiara e Davide. Questo giovedì, poi, tra l'altro, è un giovedì particolare, in quanto Chiara poi dovrà portare con sé la registrazione della chiamata intercorsa tra padre Roberto e la sedicente Fioraia. Ora, se lei davvero gliela mostra sta cosa a padre Roberto, non lo so, ma poniamo il caso che lo facesse davvero, io fossi in lei, ci penserei un paio di volte su, prima di fare una cosa del genere. Perché è probabile che padre Roberto, dopo aver ascoltato, visionato una cosa del genere, magari gli viene in mente di approfondire un po' l'argomento e metti caso che una sera tra un Ave Maria e un Padre Nostro, si mette lì su YouTube e digita qualcosa del tipo Chiara d'Alessandro e Davide. Ma se la sapessi mettere, vi metterei tipo una musichetta da 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 da, ma non la so mettere, quindi la facciamo così, molto casereccia. Io mi immagino sto povero uomo di chiesa che va a digitare questi due nomi e si trova, spezzone di live, dove tu auguri la morte a Daniele, un ragazzino di 17 anni, dove tu scleri contro Daniele come una matta a gridare isterica, a piangere, dove tu fai piangere poi relativamente pure Davide, perché lo rimproveri, perché devi chiudere il telefono, dove tu hai litigato con Marco, dove tu per esempio dai del frocio di merda a Marco, dove gli auguri la morte, dove il tuo compagno, il signorino Davide, gli dice che va lì a Torino per malmenarlo, praticamente. In modo di minaccia, oppure gli manda delle persone poco raccomandabili, sono minacce quelle, minacce gravi, chiara. Anche se tu stai live le hai cancellate, guarda, il tuo canale le hai cancellate, ma guarda che sono tutte in rete, ci sono addirittura proprio le live per intero, qualcuno le ha salvate e le ha ricaricate, quindi non lo so quanto ti conviene smuovere le acque, perché, cara mia, neanche tu, non è che sei messa così bene, anzi, io direi che peggio degli altri sei messo proprio tu, perché al di là del personaggio puccioso che vuoi mostrare nei video, tanto per attirare l'attenzione dei ragazzini, delle ragazzine, facendo la pucciosa, la spazzolina dell'unicorno. Ti ricordo che tu hai augurato la morte a Daniele, un ragazzino di 17 anni, altro che pucciosa. Ti ricordo che tu hai litigato con Stefanino, che lo ritenevi grande amico, e poi in una live hai detto, io registravo tutte le chiamate con Stefano, perché già non mi fidavo di lui, che bella persona che sei, io non mi sognerei mai di registrare delle chiamate con una persona amica, una persona che ritengo una persona amica, cioè, ma che modo di comportarsi, vuol dire che già eri prevenuta. Ora poi che sei anche in odore di santità, quanto sarebbe bello che Don Roberto ti sente pronunciare da quella bocca di santa che auguri la morte a quel frocio di merda di Marco Tito, cioè, non ti vergogni. Ora sei tutta in odore di santità, tutte le cose brutte che hai tirato fuori. Guarda, Marco fa benissimo, Marco fa benissimo quando ogni tuo punto, ogni tua virgola, ci fa una live sopra e ti sbugiarda alla grande, come ha fatto proprio poche sere fa, è stato grandissimo Marco, quando ha fatto parlare in diretta Lupi Negvi, l'autore della sedicente canzone che dovevi far usci tu, che poi per 300 euro hai fatto una figura di merda epica, cioè, epic fail proprio, levati proprio. E quando facevi tanto l'amica con Andrea, che volevi farlo riappacificare col suo ex, e invece poi dopo, due live dopo, stavi a cantare, a prenderlo in giro, quel poverino che stava a soffrire come un cane, perché è ovvio, no? Appena quando finisce una storia importante, una storia che dura da un po', è normale, che uno ci sta come un cane, e te stavi lì, in live, a dire, Mario non c'è, è andato, vi c'è, ma non ti vergogni, ma poi proprio tu, che a te quel povero Cristo di Giuseppe lo hai scappato di notte, non si è portato via manco le mutande, ha scappato così come stava, pensa a te, tu sei lì a cantare, Mario non c'è, a te è scappato di notte, cioè ma che persona brutta che sei, e non parlo esteticamente, cioè io parlo come dice Opale, tu potresti essere anche 20 chili, 40 chili, potresti esteticamente essere, non lo so, la più bella del mondo, ma all'interno, il tuo interno, chiara, ma fa proprio pena, fa pena, 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 tra su da cattiveria, falsità, opportunismo, egoismo, e sto poverino che c'hai vicino, io non lo so che fine fa presso a te, tutto contento, si deve sposare, ma a parte che contento di cosa, cioè quando parla del matrimonio, c'ha l'espressività veramente del tavolino da caffè, come detto nel video precedente, cioè fa una contentezza questa persona, che manco a dirgli, ti devi mettere vicino a quel muro, ti devono fucilare, è un angelo caduto del cielo, cioè ma da dove, ho visto oggi pomeriggio, a proposito, un video, adesso mi ricordo chi l'aveva messo su, su youtube, un video dove praticamente è stato un genio, perché metteva la parte dove, come si chiama, sto povero qui, Davide, dove Davide diceva tipo, lei mi ha cambiato la vita, perché lei è la mia principessa, e poi c'era il pezzo dove lei praticamente sta a fare continuamente rutti, cose brutte, così, era proprio in simultanea, no? E poi c'era di nuovo lui, Davide, che diceva, lei è un angelo perché è il sogno della mia vita, non ho mai avuto una donna così bella, una donna così, e poi c'era il pezzo relativo di lei che faceva un'altra porcata, cioè io stavo a morire, stavo a fare il pranzo, mi stava partendo un polmone quando ho visto sta cosa, ho detto, no, è un genio, è un genio veramente, date una medaglia a quell'uomo, subito! Poi comunque è un'altra che mi fa morire quando si parla di Chiara, è Opale, perché Opale c'ha quell'accento, c'ha quel modo di dire che parte tutta calma, poi piano piano che si incavola, no? Perché magari ci pensa alle cose che ha visto nei relativi video, nelle live, eccetera, però piano piano si va incazzando, incazzando, ops, arrabbiando, arrabbiando, praticamente parte da calma, da zero a mille, inizio a fare, ma non ti vergogni, viene dieci di ogni, io non mi perdo un video, una live, con qualcosa, basta che vedo Opale subito, perché praticamente come tutti ho i miei preferiti, cioè io cerco di seguire un po' tutti, anche perché mi piace ascoltare un po' il punto di vista dei vari canali, non focalizzare solo l'attenzione su un unico canale, perché è bello magari rendersi conto magari di un qualcosa che magari ti è sfuggito, lo dice un canale, magari un'altra cosa che ti è sfuggita la senti dire da un altro canale, è un po' un arricchimento, così, perché poi alla fine dei conti noi la chiarona la vediamo così a mo' di gioco, non è che ci passiamo la giornata, focalizziamo tutto su di lei, cioè fa una stronzata, sì vabbè ci facciamo un video sopra, ma ci facciamo una risata e ame, non è come lei che proprio ne fa motivazione di vita, ma si vede che non c'ha niente oltre youtube, oltre la vita virtuale, si vede allontano un miglio, anche io ce faccio il video, mi faccio due risate, cerco di farvene fare due anche a voi, anche per questo accento bellissimo che ho dell'alto trieste, comunque niente, adesso, per oggi vi ho seccato abbastanza, va bene, e non lo so se esce qualche altro audio oppure no, non so bene, vediamo come va la giornata, sto giovedì piovoso, oggi qua hanno dato pure allerta meteo, non vi dico dove sto, sto tra Parigi e Malta, faccio un indovinello, indovina chi? Che chi è scema? Va bene, adesso vi saluto, sennò poi trascendentiamo e non voglio trascendere, diciamo così, dai, diamoci un tono, allora un bacio a tutti e alla prossima, ciao cari!